Quinta giornata ai giochi europei a Bacu e primo oro per l'Italia, ottenuto nel tiro con l'arco, conquistare la squadra mista formata da Mauro Nespoli e Natalia Valleva che in finale sconfiggono la Georgia per 5 a 3, l'Italia aveva già messo in bacheca 5 argenti ed un bronzo decisivo, il tiro finale di Nespoli. Si avvicina la conclusione della lotta libera ma il penultimo giorno ci sono in palio ancora 4 medaglie, bella giornata in questo senso sia per i padroni di casa dell'Azerbaijan che per i vicini di casa della Russia, nella categoria dei 65 kg argento per l'italo-cubano Francia Miso Marquez, sconfitto dalla zero Toglu Lasgerov sotto gli occhi del presidente Ilemaliyev, vittoria anche per il co-nazionale Ketakasimov nella categoria 97 kg. Gran giornata per la Serbia che conquista loro sia nella finale maschile che in quella femminile della competizione di pistola a 10 metri, nervi saldi per Damir Mikic che era meglio sul portoghese Joao Costa, mentre Zorana Arunovic riesce ad imporsi sulle avversarie spagnola e bielorussa.